Ciao a tutti! Oggi vi porto a fare una passeggiata per il mio quartiere, la Garbatella. Da dove viene questo nome? Ci sono varie teorie. La più probabile è che venga da una particolare coltivazione della vigna, abbarbata o aggarbata, che significa appoggiata dolcemente sulle colline. Ma a me, che piacciono le leggende, come sapete, piace più la versione in cui pare che l'origine del nome venga da una simpatica ostessa, che aveva un'osteria lungo la via delle Sette Chiese, ed era così garbata e bella da rimanere impressa nei ricordi dei pellegrini che passavano lungo la via. Perché è stato costruito questo quartiere? Perché l'intenzione iniziale all'inizio del Novecento era quello di costruire un porto lungo il Tevere, vicino alla stazione Ostiense, per rendere più facile gli spostamenti delle merci prodotte e gli spostamenti tra il porto e la stazione. Il quartiere quindi doveva essere adatto agli operai che lavoravano tra il porto e la stazione e i mercati generali. Per questo motivo tutte le strade di questo quartiere riportano il nome di gente più o meno famosa legata al mare, da Cristoforo Colombo a Vasco da Gama a Jacinto Pullino, un armatore, ed altri che incontreremo durante la nostra passeggiata. Cominciamo dall'angolo tra le circonvallazioni Ostiense e via Jacinto Pullino, dove nel 2012 è stato inaugurato il nuovo ponte, dedicato a Settimi e a Spizzichino. Il ponte, progettato dall'architetto Francesco del Tosto, è costato 15 milioni e mezzo di euro ed è dedicato a Settimi e a Spizzichino, l'unica reduce dal rastrellamento del Ghetto di Roma. Appena imboccata via Jacinto Pullino incontriamo un casale, oggi sede del centro anziani del quartiere, risale però addirittura al X secolo e faceva parte del monastero di San Bonifacio e Alessio sull'Aventino. Si arriva a Piazza Pantero Pantera, un nome particolare, che appartiene a un capitano, vissuto tra il V e il 600, della flotta pontificia, che scrisse molti libri catalogando tutte le imbarcazioni del Mediterraneo per conto dello stato pontificio. Supervia Alberto Guglielmotti per arrivare a Piazza Brin. Qui troviamo la prima pietra posta il 18 novembre 1920 dall'allora re d'Italia. Si tratta dell'otto numero 5, che affaccia sul Pincetto o Pincio dei Poveri, dove c'è una scala che porta direttamente a quello che doveva essere il porto sul Tevere e doveva quindi collegare le case degli operai al mercato e al porto. L'architetto incaricato di questo progetto, Sapatini, ha creato uno stile particolare, detto barocchetto romano, un misto tra Medioevo Agreste e Neocotico. Entrando dentro l'arco, che ritroviamo su una splendida piazzetta, che sembra quasi una quinta teatrale, alzate lo sguardo e date un'occhiata alle caditoie dell'acqua, che sembrano un po' i gargoi di Notre Dame di Parigi. Su questa incantevole piazzetta si era creata una cooperativa di operai, che ovviamente è stata abolita durante l'epoca fascista. L'idea iniziale, infatti, del quartiere era di costruire piccole casette mono bifamiliari con giardinetto, in modo da rendere piacevole la vita di questi operai che sarebbero andati a lavorare sul porto o ai mercati generali. Poi però la storia ovviamente ha cambiato questo bellissimo progetto iniziale. Gli anni del primo dopoguerra erano anni difficili e si andava poi verso un'altra guerra. Quindi dall'idea iniziale di casette mono bifamiliari all'inglese con giardino, si passa a strutture più grandi. Andiamo sempre dritti. Scendiamo per via Orlando Luigi, incrociando via della Garbatella, e arriviamo a Piazza Bartolomeo Romano. Qui incontriamo due grandi strutture, molto importanti per la vita del quartiere di allora. Ora erano i bagni pubblici. Sì, perché dentro le casette, o anche le strutture più grandi, il bagno era semplicemente il gabinetto e un lavandino. Anzi, nei palazzoni più grandi, come per esempio il Lottootto, c'erano soltanto dei bagni al piano in comune con tutte le famiglie che vi abitavano. E quindi se qualcuno va a bisogno di farsi una doccia, doveva per forza recarsi ai bagni pubblici. Ma vi chiederete, tutta questa gente da dove veniva? Perché c'era tanto bisogno di una costruzione rapida in questo quartiere? Dovete sapere che durante il fascismo, molte strade che oggi conosciamo e percorriamo, per esempio via del Teatro di Marcello, via della Conciliazione, via dei Fori Imperiali, non esistevano. Erano agglomerati di casine, casette, casermoni più grandi, che vennero buttate giù brutalmente per poter costruire queste grandi strade e celebrare così il fascismo. Pensate però a chi viveva lì dentro, magari da un sacco di tempo, aveva casa e bottega nella stessa costruzione, che si vede da un giorno all'altro buttato fuori di casa, senza un luogo dove andare a dormire. Ecco quindi nascere la necessità di un nuovo quartiere. E vi posso garantire che non erano felici di lasciare il lavoro, la casa, la loro vita di tutti i giorni e trasferirsi praticamente fuori Roma, perché questa zona era in pratica campagna. C'era però per fortuna in questo quartiere un teatro, il Teatro Palladium, dove venivano proiettati film e cine giornali, è stato anche per un periodo cinema a luci rosse e attraeva addirittura gente dalle zone limitrofe. Interessante è la sua struttura, che ricorda un po' l'antica Grecia, ma ovviamente la sua forma è funzionale, perché la parte in alto era quella dedicata agli artisti che lì si esibivano. Salendo su per via Francesco Passino, andando verso piazza Damiano Sauli, notate un attimo le case a sinistra. C'è qualcuno che ci osserva dall'alto. A destra invece notiamo una piccola casetta, si chiama la Villetta, che durante il fascismo era sede del partito. Poi diventato sede del partito comunista dopo una violenta lotta con i partigiani. Eccoci arrivati a piazza Damiano Sauli, dove imponente si affaccia la scuola Cesare Battisti, di chiaro stampo fascista. È divisa in due strutture gemelle, perché ovviamente all'epoca la scuola era divisa in maschile e femminile. Date anche un'occhiata alla chiesa sulla sinistra. È la parrocchia di San Francesco Saverio, dove un giovane padre confessore che veniva dalla Polonia, pare che poi abbia fatto carriera. Sempre dritti sul nostro cammino, arriviamo a piazza Giovanni da Triora. Qui abbiamo due possibilità, girare a destra e andare a piazza Sant'Eurosia e vedere la chiesoletta, rimessa a posto dal Valadier, dove pare che si incontrarono San Filippo Nere e San Carlo Borromeo. Mentre invece, girando a sinistra e percorrendo via Roberto De Nopili, notiamo subito un angolo reso famoso da molti film e fiction tv. Scendiamo giù. E arriviamo a piazza Ricoldo da Montecroce, dove c'è una simpatica fontanella. Ecco qui, questa è Carlotta. E sapete chi è? La famosa, garbata e bella o stessa. Eccoci arrivati a piazza Geremia Bonomelli. Fermatevi un attimo e guardate a sinistra in alto. C'è una ragazza con un seno di fuori che si affaccia da un palazzo. È sempre lei la nostra Carlotta. E in basso, sulla facciata di sinistra del palazzo, c'è una strana scritta. Qualche writer avrà scritto Vota Garibaldi? È un po' strano. Questa scritta sul muro, che si confonde con quelle moderne, sale alle elezioni politiche del 1948. Ed è strano, perché si confonde con le scritte moderne che troviamo lì intorno. Giriamo a sinistra su via Cuglielmo Massaia e arriviamo a piazza Michele da Carbonara. Tre strutture simili, a forma di Y. In realtà erano quattro all'inizio. Erano alberghi costruiti per i pellegrini del Giubileo del 1925, progettati dall'architetto Sabatini. Dal momento che i lavori andavano piuttosto lenti, ci andarono ad abitare gli sfollati del Teatro di Marcello. Pensate che per ogni famiglia, famiglie all'epoca comprendevano nonni, zii, eccetera, corrispondeva una stanza con un tavolo, due sedie e un letto. Il bagno, come vi ho detto, era in comune sul piano e le docce erano invece nell'altra struttura che vi ho presentato prima. Nella parte sottostante c'era un prefettorio, il deposito dei mobili. Il tutto gestito da custodi, e quindi che spesso erano più carcerieri che veri e propri portieri. La struttura che tutt'oggi manca era l'albergo bianco, il nido dei bimbi e l'ospedale di maternità. Stranamente, l'unico a Roma. Talmente nuovo come idea, come concetto, che pare che Gandhi volle fermarsi qui e vederlo per poterlo riproporre poi in India. Purtroppo però nel 1944 fu un bombardamento degli alleati che in teoria doveva distruggere la stazione Ostiense. Le bombe però non sono veramente intelligenti e caddero purtroppo proprio su questa struttura, causando 50 vittime. Fu un colpo durissimo per il quartiere. Do conto che appunto era un ospedale di maternità e un nido per i bimbi. E l'orologio dell'albergo rosso segna ancora le 11.40 di quel bruttissimo giorno. Proseguendo su Viale Massaia arriviamo a Piazza Biffi, dove c'è un buffo ponticello medievale che è stato trovato da poco tempo quando hanno voluto costruire il parcheggio sotterraneo. Qui si conclude la nostra passeggiata, con due ponti, il vecchio e il nuovo, che si incontrano. Vi è piaciuto? Il quartiere piace tantissimo. È bellissimo perdersi tra le sue strade e stradine e ci sono ancora tante leggende e tante storie che vi potrei raccontare. Magari un'altra volta. Ciao, alla prossima!